Peppi, noi abbiamo deciso che oggi andiamo in piazza a dire ai padroni quel che pensiamo. Perché ci siamo stancati di chi mangia la carne e di chi mangia l'orso. Ma noi, Peppi, manco l'ostro ci hanno dato, manco l'ostro ci hanno dato e che sangue è giuda! Grazie a tutti!